Amato Alfredo, anni 19, mesi 6 di reclusione. Amato Francesco, anni 19, mesi 10 di reclusione ed euro 11.800 di multa. Velfiore Carmi, anni 23, di reclusione. Bianchini e Alessandra, anni 5, mesi 6 di reclusione. Bianchini e Alessandro, anni 12, mesi 10, euro 13.000 di multa. Bianchini e Augusto, anni 15, mesi 6 di reclusione. Bianchini e Nicola, anni 6, di reclusione. Blasto Gaetano, anni 26, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa. Bolognino e Michele, anni 30, di reclusione. Braga Bruna, anni 15, mesi 6 di reclusione. Brescia Pasquale, anni 4, mesi 6 di reclusione. Costi Omar, anni 19, mesi 6, euro 11.000 di multa. Debbie Giuliano, anni 12, mesi 4.00. Florovito Antonio, anni 17.00. Florovito Gianni, anni 12.00. Iacquinta Giuseppe, anni 19.00. Iacquinta Vincenzo, anni 6, di reclusione. Lomonaco Francesco, anni 19, mesi 10, di reclusione. Matacera Francesco, anni 17, di reclusione. Muto Antonio, 71, anni 17, mesi 6 di reclusione. Muto Antonio, 78, anni 17, di reclusione. Salsi Mirco, anni 12, di reclusione ed euro 7.500 di multa. Salcone Gianluigi, anni 18, euro 11.000 di multa. Schettini Giovanna, anni 10, di reclusione. Quazzafava Antonio, non doverci procedere per prescrizione del reato. Sergio Eugenio, anni 19. Sergio Eugenio, chiediamo la condanna, ad anni 19, di reclusione, 12.000 euro di multa. Silipo Luigi, anni 12, euro 5.000. Silipo Salvatore, anni 11, euro 5.000. Valerio Antonio, anni 15, mesi 10, di reclusione ed euro 11.500. Vertinelli Antonio, anni 5, mesi 6. Vertinelli Giuseppe, anni 16, mesi 6, euro 10.000. Vertinelli Giuseppe, anni 11, mesi 6, euro 10.000. Vertinelli Palmo, anni 16, mesi 6, euro 10.000. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.